amici sagoriani buongiorno eccoci al nostro consueto appuntamento settimanale con l'uscita del cartonato della gazzetta dello sport corea della sera domani edicola il prezzo del coraggio numero 83 ma vediamo questa copertina su fondo verde che la tratta da il ritorno di di game bill se l'ha segnalata paolo mainari su fondo verde dicevamo allora il numero 83 vediamo che nella corsa c'è già una parte del busto braccio e corpo di questa nuova parte del nemico che va a comporsi in questi ultimi numeri di questa collana quarta di copertina una bella vignetta di ferri tratta dalla storia il segno del coraggio quella che è contenuta in questo volume con un ferri direi in forma strepitosa allora andiamo a dare un'occhiata com'è questo volume cosa contiene allora sommario dunque il mio zagor mila mondi di dello spirito con la scura in 100 pagine il prezzo del coraggio appunto la fine della storia cominciata il mese scorso del 77 non lì te ferri poi comincia subito la strada di ferri quindi come come parlava come ha parlato nel nel messaggio dello scorso firmato paolo pensava che ci fosse una storia corta immaginava ci fosse una storia corta fra questo l'inizio della strada di ferro invece no comincia subito la strada di ferro del 72 di inolito donatelli poi finisce con il mondo di zagor e gli archivi buonelli ok vediamo un pochino i mille mondi dello spirito con la scura di fabboli cari si ok questo è l'albo uscito per il quarantennale se non sbaglio che buonelli allegò al numero di zagor 482 del 2001 e un albetto di cui se non ho già parlato è in programma un filmato nel canale per vedere com'è sono già passati vent'anni ragazzi ok quindi qui si parla di questo vediamo un po questo è l'albetto lo vedete nella copertina estesa di graziano affrediani curato affrediani introduzione prefazione di decio canzio emilio modi zagor si parla insomma in queste pagine quanti sono 70 80 pagine 100 pagine non mi ricordo insomma viene fatto un escursus totale a 360 gradi del mondo zagoriano quindi un albetto che completo molto bello di cui parleremo poi in un prossimo video ok testi di nolita ferri continua il prezzo del coraggio la storia cominciata nel numero scorso ok ragazzi i disegni sono eccezionali ecco guardate una delle solite apparizioni agli indiani di zagor proprio quello stile classico dell'esplosione il fumo e lui che appare agli indiani in questa storia ci sono molte scene notturne si nota che spesso ci sono scena ecco qui una una storia dicevamo molto western quindi molti scontri con gli indiani questi indiani vi ricordo avevano rubato il vessillo del reggimento battaglione insomma del forte a questa truppa e che cercano di recuperare ecco un'altra delle solite vignette di ferri per segnalare gli spostamenti di zagor vedete anche qui spostamenti notturni poi arriva l'alba e i colori cambiano per poi tornare notturni se vi dicevo molto molta parte questa storia è svolta di notte scusate allora ok qui c'è lo scontro finale dove c'è la rivalsa del soldato che aveva perso il drappo ok fino alla fine della storia che è qui ok qui a pagina 38 comincia la sala di ferro che proprio per caso comincia anche questa in una parte notturna vedete anche Donatelli come si trovava bene solo con un po di blu riusciva a dare con la forma con le sagome delle dei protagonisti e qualche dettaglio vedi in questo caso lo scheletro il senso di movimento e di presenza dei personaggi ok dicevamo qui comincia la storia che tra l'altro c'è sempre l'ingegnere Robson ingegnere ferroviario che abbiamo visto da poco tempo un poco tempo fa sulle pagine del classic sulla storia ombre quindi per caso questo è se non mi ricordo male vado a memoria ragazzi quindi cosa mai aiutatemi voi il secondo incontro con Robson anche questa è una storia abbastanza classica western che narra un po della delle problematiche che ci furono al momento che vennero instaurate le ferrovie in alcuni territori dell'america centrale ok la storia ovviamente non finisce in questo posto cioè in questo albo finirà chiaramente nel prossimo ok per il mondo di zagro vediamo i suks prima parte famosissimo popolo indiano qui vediamo un disegno di cavallo pazzo verso la resa al generale croc 6 maggio 87 77 scusate 1877 ok leggeremo di questa tribù indiana cosa ci dicono dai archivi Bonelli una bella foto di Pratt Sergio Bonelli Ugo Pratt ben utile che vi dica chi è grandissimo autore creatore di Corto Maltese e tanti altri personaggi ok prossimo numero prossimo numero dietro la maschera ok numero 83 84 scusate vediamo che i titoli dei prossimi numeri dei prossimi usciti sono sempre fino al 90 quindi ancora non c'è altro sapere come proseguire la serie si è sicuramente al 100 cosa io credo di sì ma insomma non lo so vedremo 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 ok ragazzi da domani forse da qualche parte ancora già oggi la nuova uscita del cartonato Gazzetta Corriere della Sera numero 83 il prezzo del coraggio buona giornata a tutti buona giornata a tutti buona giornata a tutti